Buongiorno a tutti, sono Valery Lukianov, interprete italiano-russo, libero professionista e laureato in lingua estrandiera. Abito e lavoro a Mosca, ma se necessario sono disponibili anche per eventuali trasferte in tutta la Russia o all'estero. Se la vostra azienda dovesse avere necessità di interpretare traduzioni e volete rivolgervi a me, sarò molto lieto di potervi aiutare.